Quasi un chilometro di ciclovia realizzata con un finanziamento di 577 mila euro fondi cipe è il nuovo step che collega il ponte sul fiume Saline con quello sul torrente Piomba, un tratto atteso da anni che consentirà ai ciclisti in transito dal lungomare di Montesilvano a quello di Silvi di evitare la statale 16 trafficata e pericolosa. Il taglio del nastro stamani a cui hanno partecipato istituzioni tecnici e cittadini. Sentiamo il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti e il presidente della provincia di Pescara Ottavio De Martinis. Noi quest'area ci vogliamo puntare tanto deve essere deve diventare un fiore all'occhiello di Città Sant'Angelo perché abbiamo il nostro borgo che è bellissimo abbiamo tutta la parte interna ma dobbiamo utilizzare anche col mare ecco perché ci siamo candidati stiamo lavorando anche per la bandiera blu oggi arriviamo ad aprire quest'opera importante e domani inizieremo sin da subito a metterci in opera per invece costruire la strada che è quella che servirà poi a scaricare tutto il traffico della nazionale. Noi siamo felicissimi di aver insomma effettuato i lavori in tempi ristretti e soprattutto è stato un piacere anche la sinergia che c'è stata con la FIAB che ha dato indicazioni in merito appunto a quelle che sono le le prerogative che rendono una rispista ciclabile sicura e soprattutto funzionale. Ci sarà successivamente un secondo step che vedrà proseguire questa importante insomma arteria ciclabile che è la ciclovia adriatica. Tutto bene dunque mica tanto in una nota arrivata nella tarda mattinata dal comune di Silvi il vice sindaco e assessore lavori pubblici Luciana Di Marco lamenta il fatto che sindaco di Città Sant'Angelo e presidente della provincia di Pescara non hanno tenuto conto degli accordi firmati oltre dieci anni fa con la giunta Valle Scura decidendo di aprire solo il tratto compreso nel territorio di propria competenza inaugurando una strana pista ciclabile che si blocca a pochi metri dalla ponte sul Piomba realizzata invece nel pieno rispetto del cronoprogramma. Ad ogni modo conclude la nota l'amministrazione comunale di Silvi in sintonia con l'amministrazione provinciale di Terramo che ha già assicurato piena collaborazione cercherà di risolvere l'insolito caso nel più breve tempo possibile cercando di recuperare anche i buoni rapporti da sempre intrattenuti con la provincia di Pescara e il comune di di Città Sant'Angelo